ciao a tutti oggi terminiamo il discorso delle maschere e parleremo ancora di maschere di livello ma dal punto di vista della loro luminosità anziché dal punto di vista della loro opacità trasparenza come abbiamo visto nella lezione precedente allora per capirci meglio cominciamo subito a fare un esempio nella timeline aggiungiamo una fotografia quindi prendo e aggiungo una fotografia disattivo la fotografia e crea uno shape layer a forma ellittica quindi prendo lo strumento ellisse e disegno un ellisse lì dove voglio mascherare la fotografia bene nella lezione precedente abbiamo visto che se noi alla fotografia nella colonna track matte attiviamo la voce alfa matte immediatamente il livello superiore viene usato come maschera per la fotografia e esattamente la fotografia utilizza l'opacità del livello superiore per essere ritagliata al momento l'opacità di questo ellisse è al 100% se io seleziono il tasto t abbasso e alzo l'opacità allora sì che anche la maschera diminuisce in opacità però se io seleziono lo shape layer e gli cambio il colore quindi vado nella palette dei colori dello shape layer che al momento è bianco e gli cambio qualsiasi colore non importa il colore e non importa neanche la luminosità bianco nero vedete che la maschera rimane sempre inalterata adesso io riporto il colore bianco e do l'ok perché sto usando appunto una maschera di livello di tipo alfa se ora io cambio l'istruzione qua da alfa a luma la situazione cambierà quindi attivo la voce luma matte al momento non è cambiato nulla ma il motivo è perché lo shape layer è bianco lo vedete da qua sopra seleziono di nuovo lo shape layer e riapro la palette dei colori e cambio il colore dello shape layer da bianco scendo verso il nero notate immediatamente che quando sono a nero la maschera è completamente trasparente se vado a metà strada grigio la maschera è semi trasparente se torno al bianco la maschera è completamente opaca quindi se utilizzo una maschera di livello in modalità luma è importante la luminosità dei pixel dell'oggetto che utilizzo come maschera adesso io la lascio bianca e do l'ok quindi questo discorso che il bianco rappresenta l'opacità e il nero rappresenta la trasparenza può tornare utile quando si hanno delle immagini in bianco e nero già pronte da utilizzare per mascherare i livelli facciamo subito un esempio disattivo la maschera di livello sulla fotografia elimino lo shape layer ora aggiungo nella timeline questo video qua reveal 01 lo allargo non è nient'altro che un video che al tempo 0 è completamente nero e poi piano a piano diventa bianco cioè delle macchie bianche si allargano finché tutto l'inquadratura non è completamente bianca per cui se adesso io utilizzo questo video come maschera di livello sulla fotografia cosa otterrò che all'inizio la fotografia non la vedo perché tutto questo livello è nero e piano piano la fotografia comparirà attraverso quelle macchie li alla fine sarà completamente visibile verifichiamo subito selezioniamo la fotografia nella colonna track matte attivo la voce luma matte alla fine infatti la fotografia si vede ma se prendo il cursore vado al tempo 0 vedete che al tempo 0 essendo il livello superiore tutto nero fa diventare completamente trasparente la fotografia comunque facciamo una preview e infatti è proprio così al tempo 0 la fotografia non si vede ma un po alla volta compaie del tutto ok questo è un caso in cui il video è già pronto proviamo adesso a crearne uno direttamente in after effects quindi disattivo di nuovo la maschera di livello e elimino dalla timeline questo video in bianco e nero adesso creerò qualcosa di simile a questo video utilizzando un effetto di after effects e quindi innanzitutto crea un nuovo livello solido che ospiterà l'effetto quindi vado nel menu layer new solid quindi crea un rettangolo bianco in questo caso il colore non è importante ci penserà l'effetto a cambiare i colori e do l'ok su questo rettangolo bianco applico l'effetto che dicevo prima quindi vado nel menu effetti nella categoria noise and grain disturbi e aggiungo l'effetto fractal noise il disturbo frattale quindi adesso lo modifichiamo attraverso i suoi parametri veniamo qui nella finestra dei parametri dell'effetto il primo parametro fractal type il tipo di frattale è un menu che contiene tutti i tipi di frattali disponibili c'è quello basic può essere turbulent che è un po più lineare oppure uno della famiglia dynamic che è un po più simile al disturbo delle nuvole oppure oppure esistono altri max smerry swirly eccetera eccetera rimettiamo però la forma basic poi una volta scelto il tipo di frattale si può scegliere anche il tipo di disturbo vero e proprio che può essere più soft come in questo caso soft linear oppure linear che è simile oppure block più geometrico a blocchi appunto oppure spline proviamo a lasciarlo block un po più geometrico poi c'è la proprietà invert che se attivo non fa altro che invertire il bianco col nero lasciamola normale il contrasto aumenta il contrasto tra il bianco e il nero più aumento questo valore e più i grigi tendono a sparire quindi lasciamolo abbastanza alto in modo che abbiamo poche sfumature o bianco opaco o nero trasparente poi c'è la luminosità se la diminuisco tutto diventa nero se l'aumento tutto diventa bianco questo ci può aiutare poi più tardi per fare la transizione da nero a bianco poi ci sono le proprietà di trasformazione che ci permettono di ruotare il disturbo proviamo a lasciarlo un po ruotato che ci permettono di scalarlo se aumento la scala magari aumentiamolo ancora di più molto di più l'offset è semplicemente spostarlo su e giù ma è uguale la complessità che se diminuisco diminuisce il dettaglio del disturbo praticamente a uno rimangono antisemplici quadrati e invece se aumento la complessità aumenta il dettaglio del disturbo diventa sempre più fine fine lasciamo una cosa più o meno a metà poi ci sono i sub settings che permettono ancora di intervenire maggiormente sul dettaglio alla scala ma nel nostro caso non ci serve molto ok e poi c'è la proprietà evolution che fa in modo che questo disturbo cambi nel tempo ecco e per renderlo un po animato questo disturbo perché altrimenti come vedete è statico se muovo la barra della timeline questo disturbo non cambia nel tempo basta che noi mettiamo due keyframe a questa proprietà e il disturbo cambia aspetto nel tempo quindi riazzero di nuovo tutto al tempo zero faccio in modo che questa proprietà valga zero quindi innanzitutto tasto destro su evolution reveal in timeline così le proprietà dell'effetto si aprono nella timeline poi al tempo zero alla proprietà evolution accendo l'orologio prendo il cursore del tempo lo porto alla fine della timeline e faccio in modo che qui l'evolution compia qualche giro completo tipo cinque giri ok se ora faccio una preview vedete che il disturbo cambia in continuazione rimane sempre dello stesso aspetto però i quadrati bianco e neri si accendono e si spengono in continuazione in modo che l'aspetto finale continua a cambiare bene questo è il primo passo in modo da rendere l'effetto un poco più interessante adesso quello che interessa a noi cioè voglio creare una transizione che vada da nero completo a bianco completo quindi al tempo zero faccio in modo che la proprietà brightness che gestisce la luminosità di questo disturbo sia talmente bassa che tutto quanto è nero ecco a circa meno 200 tutto quanto è nero e accendo l'orologio di brightness e poi voglio che dopo tre quattro secondi la luminosità aumenti fino a quando tutto quanto non è completamente bianco e anche qui andiamo circa 200 se ora faccio una preview di questi primi quattro secondi vedo una transizione che lentamente da nero passa bianco attraverso queste forme che continuano a cambiare intensità ecco se adesso noi utilizziamo questa video in bianco e nero come maschera per la fotografia facciamolo subito mi fermo alla fotografia sottostante attivo la voce luma matte e il risultato qual è che al tempo zero la fotografia non si vede ma piano piano comparirà con quelle forme del disturbo frattale una volta capito questo concetto che ciò che è nero rappresenta la trasparenza e ciò che bianco rappresenta l'opacità si possono creare anche cose interessanti come questa soprattutto per scopi di transizione cioè per far rivelare o far scomparire dei livelli in questo caso per far comparire la fotografia un po' alla volta facciamo un piccolo passo in più per esempio se io seleziono il soido e lo duplico quindi lo seleziono ctrl d e lo duplico il duplicato lo riattivo gli riaccendo l'occhiolino e quindi di nuovo lo vedo se io a questo livello adesso aggiungo un altro effetto vado nel menu effetti della famiglia style eyes find ages attenzione cosa succede che sui bordi di quelle forme vengono create delle linee nere e tutto il resto diventa bianco eccolo questo è l'effetto find ages l'unica proprietà che ha è invert se io la clicco succede il contrario adesso ho un livello che contiene i contorni di quell'effetto di disturbo frattale e tutto il resto è nero se adesso io utilizzo questo video qua per mascherare un altro livello magari un rettangolo colorato facciamolo subito quindi disattivo tutto creo uno shape layer rettangolare questa volta quindi seleziono rettangolo doppio clic così ho creato un rettangolo grande come la composizione però magari non lo faccio bianco ma apro la palette dei colori e lo faccio magari blu blu azzurro ok se adesso io questo shape layer lo metto sotto quel livello che contiene i contorni del disturbo frattale e a questo rettangolo azzurro attivo la voce luma matte succede che quelle righe bianche praticamente mi ritagliano il rettangolo azzurro per cui mi rimangono delle linee azzurre che seguono proprio il contorno di quel disturbo frattale che ho usato come transizione e quindi se faccio una preview o una cosa un poco più interessante cioè non solo la transizione ma anche le linee di confine tra la trasparenza e l'opacità bene e con questo esempio concludiamo il discorso delle maschere di livello e quindi la lezione di oggi è finita ci vediamo alla prossima ciao